Musica Martedì 25 ottobre, buongiorno e bentrovati per questa prima edizione con l'informazione regionale di Telemolise. Il giovane che la scorsa settimana ha aggredito due universitari a Campobasso in pieno giorno ha un volto ma non ancora un nome. Gli agenti della mobile hanno diffuso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso il 17 ottobre, giorno in cui ha messo in atto le due aggressioni. I poliziotti che stanno controllando a tappeto il quartiere e tutta la città invitano chiunque lo abbia riconosciuto nelle immagini a farsi avanti. Anna Maria Di Matteo Potrebbe avere le ore contate l'uomo che ha molestato sessualmente due studentesse universitari nella zona di Vazieri a Campobasso lo scorso 17 ottobre in pieno centro in una strada trafficata. La polizia di Campobasso, che da una settimana sta conducendo in maniera serrata le indagini, ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha diffuso le immagini del presunto aggressore ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Si tratterebbe di un giovane di un'età compresa tra 25 e 30 anni, di carnagione chiara, non necessariamente di nazionalità italiana. Dalle immagini si nota che il ragazzo al momento dell'aggressione indossava abiti da lavoro, sporchi di vernice e calzava scarpe antinfortunistiche particolari che lasciano presupporre che possa lavorare in un cantiere edile. Gli agenti della squadra mobile stanno monitorando tutta la zona e l'intera città. Le indagini sono coordinate dal commissario capo Vincenzo Coletta e dagli uomini della mobile del vice equestore Raffaele Iasi. La polizia invita chiunque lo abbia riconosciuto nelle immagini a farsi avanti, anche in forma anonima, in modo da poter avere ulteriori indizi che possono condurre al presunto aggressore. Intanto in città tra le ragazze, soprattutto quelle che frequentano la zona di Vazieri, c'è preoccupazione. Non vanno più in giro da sole, anche in pieno giorno, e sperano che il molestatore venga preso prima possibile. Vincenzo Coletta Il prefetto di Isernia, Fernando Guida, ha incontrato i sindaci della provincia per fare il punto sull'accoglienza dei migranti e per illustrare le nuove iniziative previste alla luce dei recenti accordi tra il Ministero dell'Interno e l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sentiamo il servizio. Il Molise, la propria parte, la sta facendo, anche più del dovuto, dicono i numeri, ma ora è arrivato il momento di cambiare passo e di migliorare, puntando a un sistema di gestione dell'accoglienza che sia effettivamente diretto all'inclusione sociale degli immigrati. Per raggiungere questo obiettivo e dando un seguito al rapporto di collaborazione con l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il prefetto, Fernando Guida, ha chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Isernia, spiegando loro in particolare i possibili vantaggi legati all'adesione alla rete SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che per l'appunto mira un'effettiva integrazione anche attraverso corsi di formazione e di riqualificazione professionale finalizzati alla ricerca di un lavoro. Il piano operativo che è stato condiviso proprio qualche giorno fa dal Ministro dell'Interno e più in generale dal Governo con l'Anci, ribadisce come i comuni debbano essere ancora maggiormente coinvolti nell'accoglienza dei migranti, utilizzando prioritariamente il modello SPRAR. i comuni potranno ottenere in un futuro di non avere più la collocazione di ulteriori centri di accoglienza temporanei, che sono quelli gestiti dalle prefetture. Ecco, quindi in sostanza, più saranno propositivi gli enti locali, più dimostreranno quindi di voler essere attori e soggetti attivi della gestione dell'accoglienza, più si sposterà gradualmente l'accoglienza dai centri di accoglienza temporanei alle strutture SPRAR. Per l'Anci Molise, iniziative come questa vanno nella giusta direzione, poiché si passa da decisioni di cui spesso i sindaci sono all'oscuro a un rapporto di effettiva collaborazione. L'importante è che i comuni vengano coinvolti nel momento giusto. I sindaci non possono vedersi così arrivare tantissime persone che nei propri paesi, soprattutto nei piccoli paesi, senza poterli gestire e quindi garantire quelli che sono i servizi essenziali. Diverso è mettersi d'accordo un pochino con la comunità, con i sindaci, costruire nei limiti del possibile una situazione e anche un'opportunità per le stesse persone che devono essere ospitate ad integrarsi nella comunità di riferimento e quindi costruire tutte queste questioni prima alla base è determinante per i comuni. E la notizia di Isernia era l'ultima per quanto riguarda la prima edizione del nostro telegiornale. Restate però con noi tra pochissimo. La rassegna stampa. La rassegna stampa di Telemolise parte come ogni mattina dalla home del giornale del Molise.it. Campobasso, l'aggressore delle due studentesse a un volto, la polizia diffonde le immagini. E poi la polizia postale di Campobasso oscura, 20 siti di pornografia minorile. I comuni dell'Appennino a raccolta, Castel del Giudice, chiedono maggiore attenzione. Dal governo Termoli, primo confronto sul tunnel, cittadini e associazioni a confronto, pareri positivi. Come studiare e lavorare in Europa all'alberghiero di Termoli? Le opportunità Eurodesk. Boccardo della Will, in Molise lavoro nero irregolare, subito una strategia di contrasto. E sempre nella home del giornale del Molise.it, settore trasporto pubblico, lavoratori e sindacati protestano. Legge elettorale regionale, Scarabeo propone tre collegi, Campobasso, Termoli e Isernia. Teatro Italo-Argentino di Agnone, la stagione 2016-2017. Ad Altilia, girata la sigla di Il più forte, programma in onda su D-Max. Mafalda, capannone industriale occupato per ospitare un rave party. Isernia, tumori, esperti fanno il punto, casi in aumento, ma la mortalità fortunatamente è in calo. Editoriali, idee ed opinioni sul giornale del Molise.it, la Boschi fa il pieno a Campobasso, Frattura e Fanelli si esaltano, ma non è merito loro. E poi zuccherificio e crisi industriali, chiuso per lutto il Consiglio regionale. Altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo, le potrete trovare sul giornale del Molise.it. Passiamo ai principali quotidiani molisani, iniziando da primo piano Molise. La Polizia diffonde l'identikit, ore contate per il maniaco. L'appello del questore di Campobasso, massima attenzione, ma vanno evitate pericolose psicosi. Gli inquirenti chiedono il contributo dei cittadini per dare un nome al giovane ripreso dalle telecamere di Viale Manzoni, dove sono state aggredite le due ragazze. Subito a destra, Campobasso chiude la scuola di Viale Opardi, si va verso i doppi turni. Ci spostiamo al centro della prima pagina. L'ombra della mobilità scatta l'agitazione dei lavoratori gamma. Oggi presidio e vertice in prefettura. Il 4 novembre scade la CIGS. Politica in lutto, si è spenta Rossana Di Pilla, ex presidente del Consiglio regionale. La curiosità, Venafro si respira aria di Natale, ci sono già le luminarie. Poi di taglio basso la vetrina in Molise, nella sigla del più forte, il sito di Altiglia ha scelto come set per D-Max. Il taglio del nastro a Castelpetroso, moderno e antisismico, inaugurato il polo per gli alunni di 5 paesi. Lo sport, l'analisi dopo la scopola interna dei lupi, con il San Nicolò, ingenuità e disattenzioni. Serie D, con ricamato al top della forma fisica, l'Olimpia agnonese fa ancora più paura. Eccellenza De Bellis individua il problema del macchia, serve crescere davanti. La prima pagina del quotidiano del Molise, l'apertura maniaco molestatore. La polizia dice, i cittadini ci aiutino a catturarlo. Campo basso, gli investigatori sono importanti, anche le segnalazioni in forma anonima potrebbe colpire ancora. Diffusi volto e video del sospettato che ha tentato di violentare due universitarie. L'identikit ha fra i 20 e i 25 anni, è stato visto in giro con abiti da lavoro. Al centro della pagina, Istituto di Via Leopardi, intesa vicina doppi turni, ma solo per 45 giorni. Isernia, accoglienza migranti, gestione diretta ai comuni. E poi questa mattina ad Isernia, Giuliano Amato di Taglio Basso, Open Day, il consiglio notarile oggi anche nelle scuole della regione. In onda, su di Max, parte stasera il più forte, sigla girata interamente in Molise. Crimini sul web, pornografia minorire, la Polpost chiude 20 siti internet. Autisti ATM in protesta, Giglio dice serve una determina vincolata. Infine, sul quotidiano del Molise, lo sport, serie D, lupi, una batosta interna da archiviare in fretta. L'agnonese, capolista, si gode un super ricamato. La prima pagina della Gazzetta Molisana, area di crisi, lavoratori. Dimenticati questa l'apertura, entro il 20 ottobre bisognava inviare al Ministero i dati sul numero dei dipendenti interessati. Rischia di aprirsi un giallo. Il nostro Oscar della Gazzetta Molisana ad Alessandra Amoroso, il tapiro ad Antonio Battista. Torniamo adesso sul web, futuro molise.net. Nella home a Campobasso la Polizia diffonde la foto del molestatore dell'Università. Subito a destra, Sanità Comitato Santimoteo. Siamo al giro di Boa. È auspicabile che l'intera programmazione sanitaria regionale non sia messa a rischio sfascio. E poi la Polizia Postale di Campobasso oscura 20 siti a contenuto pedopornografico e denuncia 10 persone per reati commessi sul web. Attualità, si parla di viabilità. Il Molise e la Campania pronte a stanziare i fondi per l'atirreno adriatico. E poi politica. Isernia, la professoressa Rossana Di Pilla non è più con noi. L'ex presidente del Consiglio regionale e provveditore agli studi aveva 73 anni. Altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo le potrete trovare su futuromolise.net. È il momento di dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo come ogni mattina dalla prima del Corriere della Sera. L'Europa deciderà dopo il voto. I conti italiani ai ministri Ue il 5 dicembre. Oggi la lettera di Bruxelles. Dalla Commissione arriverà una richiesta di chiarimenti sul debito troppo alto. Al centro della pagina sul riscaldamento, l'anidride carbonica e gli effetti del nino. Mai così alti i livelli di CO2, il clima è stato stravolto. In basso, vaccinatevi, basta con gli sconsiderati. Mattarella dice che è essenziale contro malattie pericolose percentuali sotto la soia di sicurezza. La prima pagina del quotidiano, La Repubblica, apre con i migranti. Record di sbarchi. Il Viminale siamo al collasso. In Italia ne sono già arrivati oltre 153 mila. Altre 17 vittime, tra cui tre bambini. Di taglio alto, raggi, non sono perfette in tutto, ma vincerò la sfida. Di Roma, intervista con la sindaca del Movimento 5 Stelle, no alla logica dei 100 giorni, risolverò rifiuti e trasporti. E dal quotidiano, La Repubblica, passiamo alla prima pagina della stampa. Braccio di ferro con l'Unione Europea. L'Italia aumenta i tagli per evitare il richiamo. Attesa per la lettera, il PD sabato in piazza, anche contro l'austerity. Subito a destra, la fotonotizia. Clinton, sono superstiziosa, non rivelo la squadra. In viaggio con Ilari, vincerò a Valanga. E poi Italia, sbarchi record in un anno 153 mila, vicino a Ferrara, barricate per fermare i migranti. Il tempo di Roma, apertura per la raggi, appesa ad un filo, funivia a Roma. Il sindaco rilancia il progetto della funicolare Casalotti Battistini. Tra qualche mese il piano, ma intanto la capitale resta a terra. A sinistra, così cambiano le cartelle con Equitalia 2.0. Nuove regole per pagare i debiti fiscali. E da Roma passiamo a Napoli con la prima pagina del quotidiano Il Mattino. Vaccini in calo, più malattie. Mattarella ha sconsiderato criticare la profilassi. Resistono Rosolia e Morbillo. Il richiamo del capo dello Stato ai genitori. I guaritori contrari alla scienza vanno contrastati. Al centro della pagina, la fotonotizia all'allarme. Nuova ondata di sbarchi. Alfano speriamo nel maltempo. Profughi in Campania non c'è più posto, ma non si può sperare nella Libia. A destra il caso Dramma Caserta. Ucciso per gioco. Suicida il fratello. La rassegna stampa continua con la prima pagina del quotidiano L'Avvenire. Mai più la giungla. Questa l'apertura. 6.000 persone trasferite in vari centri francesi. Sbarcati in Italia migliaia di migranti. Soccorsi in mare. Sono 153.000 dall'inizio dell'anno. Maxi Sgombero del campo profughi di Callas e dai corridoi umanitari. Nuovi arrivi sicuri. Il quotidiano libero. Chi non salva un profugo è un omicidio. Uno dei titoli di libero. I nostri marinai indignati per non essere riusciti a evitare il naufragio di un barcone di immigrati. italiani eroi, gli assassini, sono Unione Europea e scafisti. Subito a destra troviamo la foto di D'Alema. Che male c'è se a D'Alema non piacciono gli agnolotti? Sbatte il piatto in faccia alla cronista. Giusto, dice Libero. La prima pagina del Fatto Quotidiano. In apertura. Niente contratti. Voucher di Stato. Pure i comuni affittano lavoratori a 7 euro l'ora. Di taglio alto, prof di regime, quanti colleghi della Giannini. Subito a destra tagli alla casta il PD famelina per rinviare referendum. Ma com'è facile truccare il voto nei collegi esteri. E dalla prima pagina del Fatto Quotidiano passiamo adesso al messaggero. Manovra le richieste di Bruxelles. Pronta la lettera della Commissione Unione Europea all'Italia. Servono chiarimenti su entrate e deficit equitali alla sanatoria e legge. Le domande fino al 21 gennaio. Protesta dei comuni esclusi. La fotonotizia per l'ufficiale di Marina. Anche omicidio colposo. Per un naufragio. La tenente di Vascello Pellegrino. In un'operazione di soccorso. A largo di Lampedusa. E la nostra rassegna stampa prosegue con la prima pagina del quotidiano secolo d'Italia. Con l'apertura dedicata all'immigrazione. A questa foto che vedete. Italia è invasione. In primo piano. Carminati difese in aula. Non ho corrotto i giudici. E poi Renzi in casse. Sì dei VIP. Mai no. Salgono al 54%. 54%. Friuli bene il centrodestra. Lega è il secondo partito. Dal secolo d'Italia. Uno sguardo alla prima pagina del manifesto. All'ultimo respiro. Allarme mondiale dei climatologi. Gas Serra hanno superato ogni soia. Resteranno a livelli mai visti per generazioni. Il quotidiano La Verità. La Turchia ci ruba gli spaghetti. La battaglia del grano. Troppo frumento importato. I coltivatori protestano. A rischio 300.000 imprese. Ancara ci insidia nella vendita di pasta nel mondo. La fotonotizia. L'aiutino del ministro. La Giannini dà una mano ai professori amici. La prima pagina del sole. 24 ore. Sanatoria delle cartelle. Questa l'apertura. Ecco quanto si risparmia. Più vantaggi per i ruoli meno recenti. Multe. Sconto fino a un terzo del dovuto. Il decreto fiscale in vigore da ieri. Entro il 22 gennaio. La domanda Equitalia per la rottamazione. Infine la gazzetta dello sport. Milan One. Se batte il Genoa. vola al comando. E Giglio fa un anno alle ore 20.45. La sfida di Marassi vale il primo posto. Mistero buffo di taglio alto. L'Inter lancia il casting allenatore. Sembra una commedia. La fiducia al tecnico olandese sarebbe scaduta. Subito in basso. Pallone d'oro. Tanta Juve. Nella lista dei 30 ci sono Buffon, Higuain e Di Balà. E con la gazzetta dello sport si chiude l'appuntamento con la rassegna stampa di Telemolise. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Grazie per averci seguito.